Salve, e come di consueto anche quest'anno il Lombardi, come tutte le scuole d'Italia, è pronto per accogliere con Open Day virtuali, ma anche con appuntamenti per visite in presenza, per laboratori didattici, tutti gli studenti e le studentesse con le loro famiglie che sono alle prese con la decisione sul futuro scolastico da continuare a percorrere. A me piace lasciare la parola rispetto alle caratteristiche della nostra scuola direttamente ai docenti, che sono l'anima pulsante della scuola, sono coloro che ogni giorno nel quotidiano prendono in carico gli alunni, le loro ansie, i loro sogni, le loro speranze, ne coltivano i talenti. Per cui saranno i docenti dei vari indirizzi, perché noi abbiamo la caratteristica di essere un istituto superiore con una pluralità di indirizzi, tra cui anche due indirizzi per gli adulti che si svolgono con lezioni serali, che daranno tutte le informazioni di dettaglio circa le caratteristiche, i tempi scuola, le discipline di studio, i quadri orari. Quello che voglio fare è rivolgere un invito a tutte le famiglie e a tutti i giovani a visitarci. Noi avremo sabato 22 e domenica 23 due appuntamenti importanti. Saranno virtuali perché, ahimè, il Covid ancora non ci consente di poter ritornare a quella auspicata normalità che ci permette di guardarci negli occhi, abbracciarci, salutarci, essere fisicamente vicini. Tuttavia, anche attraverso il monitor, il nostro impegno per manifestarvi il nostro entusiasmo, la nostra presenza attenta, la nostra cura per i giovani preadolescenti che si avviano verso un percorso che deve essere necessariamente accompagnato da una struttura solida di valori, di cultura che possa animare ulteriormente la loro fiducia nel futuro. Noi siamo qui il 22 pomeriggio e il 23 mattina. Ai link che troverete sul sito, che sono prenotabili al solo clic, potrete prenotare la vostra giornata di Open Day con tutti gli indirizzi della nostra scuola. In più è possibile, sempre andando, visitando il sito e cliccando sul modulo di prenotazione visita in presenza, prenotarsi per un laboratorio o più laboratori che organizzeremo il giorno 21 venerdì pomeriggio presso i plessi della nostra scuola, in maniera tale che ciascuna famiglia e ciascuno studente o aspirante studente della nostra scuola potrà vivere concretamente un'esperienza didattica, reale, concreta con i docenti che poi al momento della frequenza scolastica concretamente accompagneranno la loro crescita culturale. Vi aspettiamo, il nostro motto quest'anno è il Lombardi ti aspetta.